Cominciamo con alcuni problemi. Allora, vediamo. Primo problema. Quant'è il 15% di 40? Il mio modo di fare problemi con le percentuali è semplicemente convertire la percentuale in una cifra decimale e poi la moltiplico per il numero di cui sto cercando di ottenere la percentuale. Quindi il 15% come decimale è pari a 0,15. Spero tu l'abbia già imparato dal video sulla conversione da percentuale a decimale. E poi lo moltiplichiamo per 40. Quindi diciamo 40 per 0,15. Allora, 5 per 0 fa 0, 5 per 4 fa 20. Metto uno 0 qui. 1 per 0 fa 0, 1 per 4 fa 4. Ottieni 6, 0, 0. Poi contiamo quanti decimali ci sono. 1 e 2. Quindi vai 1 e 2 e metti la virgola qui. E quindi il 15% di 40 è pari a 0,15 per 40 che equivale a 6,00. che è come dire 6. Facciamo un altro problema. Spero di non confonderti troppo. E questa volta invece voglio cercare di confonderti, giusto nel caso in cui non ti abbia già confuso questa volta. e quindi quant'è lo 0,2% di, fammi pensare a un bel numero, di 7. Allora, un sacco di gente sarebbe portato a dire Ah, lo 0,2% è come 0,2. E se questa fosse la tua inclinazione ti staresti sbagliando. Perché ricordati, questo non è 0,2, questo è 0,2%. Ok? Quindi ci sono due modi di pensarci. Puoi dire che è 0,2 su 100 che se moltiplichi il numeratore e il denominatore per 10 è come dire 2 millesimi, 2 su 1000. Oppure puoi semplicemente usare la tecnica di spostare la virgola di 2 a sinistra. Quindi in questo caso se parti da 0,2 sposti la virgola di due posti a sinistra e quindi vai bam, ops, vai bam, bam ed eccoci qua e quindi la virgola va lì. Quindi diventa 0,002. Ok? E questo è fondamentale. 0,2% è 0,002. Ci può sempre cascare. Io ne ho fatti un sacco di questi errori qui, eh. Quindi non sentirtici male se... Però, insomma, devi sempre fare attenzione quando c'è una virgola e una percentuale nello stesso tempo. Allora, adesso che abbiamo capito come scrivere questa percentuale in decimale non ci resta che moltiplicare questo qui per il numero di cui vogliamo la percentuale. Quindi diciamo 0,2 0,0,2 per 7. Ok? Ebbè, è abbastanza semplice perché 7 per 2 fa 14 e poi dobbiamo contare quanti numeri dietro la virgola abbiamo quindi ne abbiamo 1, 2 e 3 1, 2 e 3 numeri dietro la virgola quindi abbiamo bisogno di 1, 2 e 3 numeri dietro la virgola e quindi diventa 0,014 quindi lo 0,2% di 7 è uguale a 0,014 e magari pensi però questo è un numero veramente piccolissimo ed ha senso perché lo 0,2 se ci pensi è persino più piccolo dell'1% in realtà è più se ci pensi 0,2 è un cinquecentesimo ok? E se fai conti un cinquecentesimo di 7 esce fuori che è proprio questo numero qui 0,14 ed è una cosa importante da fare è sempre bene avere un riscontro nella realtà perché quando fai questi problemi con virgole percentuali è facile tipo perdere un fattore 10 qua e là o guadagnare il fattore 10 quindi fai sempre una verifica per vedere se la risposta ha un senso adesso ti confondo ancora di più allora se ti chiedessi 4 è il 20% di quale numero? quindi il riflesso di un sacco di persone potrebbe essere ah, fammi prendere il 20% di 4 il 20 diventa il multiplico per 4 però di nuovo in questo modo saresti in errore perché pensaci non è che sto dicendo quant'è il 20% di 4 sto dicendo che il 20% di un certo numero è 4 ok? quindi adesso facciamo un po' d'algebra scommetto che non te l'aspettavi in un modulo superpercentuale quindi diciamo sia x uguale al numero a quel numero questo numero qui sia x quel numero e questo problema dice che il 20% di quel numero quindi il 20% di x è uguale a 4 e quindi adesso è in una forma che magari puoi anche riconoscere quindi come possiamo scrivere il 20% di x in decimale? allora il 20% semplicemente è 0,2 quindi 20% è 0,20 o 0,2 intanto non ci serve aggiungere lo 0 finale per x è uguale a 4 e adesso abbiamo un'equazione lineare di livello 1 scommetto che non te l'aspettavi eh e quindi che facciamo? e allora ci sono due modi ma insomma puoi dividere entrambi i lati di questa equazione per il coefficiente di x che è 0,2 quindi se dividi per 0,2 qui e dividi per 0,2 qui qui sa nulla e quindi ottieni x uguale a 4 diviso 0,2 cerchiamo di capire quanto fa 4 diviso 0,2 spero di avere spazio a sufficienza allora 0,2 sta nel 4 allora qui ci metto una virgola il modo di fare queste divisioni è che devi spostare la virgola in questo caso di 1 a destra e quindi qui abbiamo semplicemente un 2 spostiamo la virgola a destra anche qui e quindi 0,2 sta nel 4 lo stesso numero di volte che il 2 sta nel 40 ok? e questo è facile perché quante volte sta il 2 nel 40? beh il 2 sta nel 4 due volte poi il 2 sta nel 0,0 volte avresti anche potuto farlo a mente che il 2 sta nel 40 20 volte quindi 4 diviso 0,2 fa 20 e quindi la risposta è 4 è il 20% di 20 e ha senso? ma ci sono un paio di modi di pensarci 20% è esattamente un quinto e 4 per 5 fa 20 e quindi questa cosa ha senso ma se ancora non sei sicuro possiamo anche controllare il problema prendiamo il 20% di 20 quindi il 20% di 20 è uguale a 0,2 che sarebbe il 20% per 20 no? e se ti fai conti esce sempre fuori che è 4 quindi sei sicuro che sia la risposta giusta facciamo un altro del genere sto pescando i numeri in modo casuale diciamo 3 è 3 è è il 9% di quanto? allora di nuovo sia x uguale al numero di cui 3 è il 9% non c'era bisogno di scrivere tutta questa cosa ma insomma in questo caso sappiamo quindi che 0,09 per x che 0,09 è come dire 9% no? quindi 9% di x è uguale a 3 ora x è uguale a 3 fratto 0,09 se facciamo la divisione 0,09 sta nel 3 mettiamoci una virgola qui non lo so di quanti 0 ho bisogno spostiamo la virgola di 2 questa volta la spostiamo di 2 anche qui e quindi 0,09 sta nel 3 lo stesso numero di volte che il 9 sta nel 300 quindi 9 sta nel 30 3 volte 3 per 9 fa 27 3 ah vedo già uno schema qui perché qui è 3 e 3 30 per 3 fa di nuovo 27 27 3 e così via quindi continuerai ad ottenere 3 all'infinito andranno avanti all'infinito quindi esce fuori che il 3 è il 9% di lo puoi scrivere come 33,3 ripetuto oppure sappiamo tutti che 0,3 ripetuto è come dire un terzo quindi potremmo anche scrivere che il 3 è il 9% di 33 e un terzo entrambi potrebbero essere una risposta accettabile e in realtà un sacco di volte in cui fai le percentuali in realtà stai solo cercando di ottenere una cosa approssimativa alla correcisione potrebbe non essere sempre la cosa più importante però in questo caso saremo precisi ovviamente anche su un test devi essere preciso spero di non essere andata troppo veloce e che tu abbia una buona idea su che cose sono le percentuali ma la cosa importante per questo tipo di problemi è prestare attenzione in modo in cui sono scritti se ti dice trova il 10% di 100 questo è facile perché converti il 10% in un decimale non ti devi per cento ma se ti dovessi chiedere 100 è il 10% di quanto devi ricordarti che questo è un problema diverso in questo caso 100 è il 10% di se fai i conti ti accorgi che è 1000 se ho parlato troppo in fretta su questo modulo insomma spero di non averti confuso troppo ma ne registrerò altri